Musica Mercoledì 11 maggio, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori in diretta come sempre tutte le mattine alle 7 e mezzo ci ritroviamo qui per leggere i giornali tra poco lo faremo con il nostro touch screen salutiamo anche coloro che ci seguono in replica un demanda su internet attraverso la nostra applicazione internet allora subito dicevo il Santo del Giorno oggi è un, si ricorda San Maiolo ma oggi è il 13, oggi è l'11 scusate, l'11 di maggio e quindi sì, io ero già avanti, ero già il 13, mi ero preparato per la Vergine Maria di Fatima ma insomma c'è tempo, ancora due giorni dicevo Maiolo di Cluni è un santo del X secolo, siamo intorno al 970 il sole è sorto alle 5 e 3 quarti e tramonterà alle 20 e 23 allora andiamo adesso invece a vedere il tempo per oggi il cielo oggi sarà molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio attenzione, le temperature sono stazionari gli eventi deboli sud-occidentali temporali che arriveranno man mano anche verso la costa per domani giovedì 12 tempo migliora lungo l'Adriatica mentre lungo il mare Adriatico mentre dentro terra vedete al centro della regione c'è ancora qualche possibilità di isolato e breve fenomeno temporalesco mentre per venerdì 13 il cielo sarà poco nuvoloso nella prima parte della giornata con il transito di nuvole medio-alte dal pomeriggio le temperature sono sempre stazionari sono previste però per i prossimi giorni condizioni di instabilità anche nel weekend anche nel fine settimana probabilmente più marcate nella giornata di domenica allora cominciamo a leggere i giornali vediamo subito il Corriere Adriatico naturalmente c'è la notizia la notizia della conferma 20 anni per Luca Varani il mandante dell'aggressione con l'acido a Lucia Annibale tutti i giornali questa mattina ne parlano compreso appunto il Corriere Adriatico ma noi andiamo subito nelle pagine locali quelle di Fano violenze tra i ragazzini a scuola una dodicenne spinta da un coetaneo è andata in ospedale è finita due giorni in ospedale poi c'è stato un altro episodio sull'autobus e dunque il racconto di questo episodio un episodio di violenza a scuola che ha creato preoccupazione anche se il preside minimizza non è stata una prevaricazione partono comunque le denunce ma i due minori chiaramente non sono imputabili una bambina di 12 anni che frequenta il secondo anno dell'istituto comprensivo Padalino che è appunto stata vittima della spinta del coetaneo circa un mese fa durante il cambio dell'ora e poi sempre dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico al via i controlli sulla regimazione delle acque quattro incontri sul regolamento di polizia rurale organizzati dal Comune dal Corpo Forestale dello Stato e dal Consorzio di Bonifica 11 famiglie soffocate dalla strada i residenti di Tombaccia contro il progetto delle opere compensative della 14 il movimento è cappeggiato da Don Marco Polverari che ha incontrato il sindaco possibile una alternativa ancora dal Corriere Carnevalesca al voto una poltrona per due Cecchini corre per il terzo mandato triennale i carristi vogliono sbarrargli la strada con Maria Flora Gianmarioli che vedete qui sotto nella fotografia sotto quella di Luciano Cecchini alle 19 dunque il presidente uscente segnala tra i suoi risultati migliori la lotteria solidale e la sfida per i bambini ma per l'associazione concorrente non si è data dignità a talento e scuola dei maestri della cartapesta e poi su Facebook è stato creato un gruppo a sostegno di Cito così lo conosciamo tutti lo storico Francesco di Radiofano pensate hanno già ricevuto questo gruppo più di 3.300 iscrizioni che cosa si chiede? Rivolgiamo a Francesco Radiofano Francesco Radiofano c'è già però in un orario un po' notturno i suoi fans vorrebbero che fosse rimesso nel palinsesto del mattino e quindi ci sono tante testimonianze di affetto nei confronti di questo DJ Bambi creato da Fabio Tombari e l'ipotesi di Piscaglia che è presentata oggi nell'omaggio allo scrittore oggi pomeriggio alle 17.30 alla Mediateca Montanari c'è questo incontro dal titolo dove è nato Bambi omaggio a Fabio Tombari a parlare sarà appunto il dottor Sandro Piscaglia archiatra di Frusaglia così definito dallo stesso Tombari che è stato legato al dottor Piscaglia da una lunga amicizia andiamo adesso sull'altra pagina del Corriere Adriatico la bandiera blu su tutta la riviera fanno eccezione le spiagge fanesi di Arzilla e Lido ma questa non è una novità per i valori che sono stati sforati nel 2014 questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri insieme al direttore dell'ufficio turismo Mauro Giampaoli si recherà a Roma per ritirare la bandiera blu che è il riconoscimento che viene assegnato ogni anno in Italia come del resto anche negli altri paesi europei ed extra europei dalla FII l'organizzazione internazionale non governativa appunto che controlla tutta una serie di parametri nelle varie città che si candidano e dunque quest'anno c'è per l'ennesima volta appunto per fortuna la bandiera blu su tutta la riviera Adriatico eccetto all'Arzilla e all'Ido dove comunque all'Arzilla e quindi anche all'Ido si sta cercando di porre rimedio di risolvere un po' la questione dell'inquinamento poi altre notizie sul quotidiano delle Marche da Senigallia la pagina di Senigallia rubano due borse nel parcheggio del centro commerciale anche qui ormai sono fatti che cadono quasi quotidianamente mentre a centro pagina le squadre anti sballo restano al palo i vigili urbani stagionali danno forfè per i mesi di maggio e il turno di notte è costretto a slittare questa la pagina invece di Pesaro Urbino ora i giovedì siamo nella città ducale ora i giovedì non fanno più paura controlli in piazza in centro nessuna trasgressione in ordine anche i locali Gambini che è il sindaco di Urbino dice grande sforzo delle forze dell'ordine ma anche il nostro regolamento anti alcol sta funzionando poi cambiamo giornale andiamo sul resto del Carlino dalla pagina di Fano e Valle del Cesano c'è questo incontro si parla di questo incontro con gli agricoltori per la gestione dei fondi orti prima le regole poi le multe allarme frane e alluvioni così il comune corre ai ripari poi da Cartoceto il trofeo noi più forti della disabilità e sotto invece a Mondolfo rifondatori avviso a Silvestrini non appoggiamo nessuno Sauro Olivieri dice niente compromessi con il partito della Nazione di Renzi stiamo parlando chiaramente laddove si voterà il prossimo 5 di giugno ecco anche qua sulla sanità dal resto del Carlino l'ospedale unico vince sulle firme il consiglio boccia la mozione per il mantenimento dei due presidi esito scontato per l'iniziativa popolare sottoscritta da 1.353 cittadini il monito Diaguzzi l'ex sindaco basta litigare sul sito il rischio è che la struttura la facciano a muraglia e dicevamo del gruppo che è nato su Facebook che ha più di 3.000 partecipanti e il web si innamorò del DJ eccolo qua The Voice la voce il DJ Francesco Boiani in questa immagine allegra spensierata Cecchini della Carnevalesca dice ancora ho ancora tanto da fare domenica si vota il direttivo oggi iniziativa del comitato invece Pacassoni quello che come dicevamo vorrebbe un cambio al vertice poi il salone del libro che consacra il festival fanese passaggi festival infatti questa quarta edizione che si terrà dal 23 al 26 giugno sarà presentata sabato al salone del libro di Torino dove appunto ci sarà ci sarà anche una rappresentanza del festival per presentare questo evento la cui televisione naturalmente evento che seguiremo anche noi perché Fano TV è la televisione ufficiale del festival passaggi ho la pagina di Fano invece spropri in spropri in autostrada un prete guida la rivolta il prete è Don Marco Polverari che dice siamo reclusi in casa nostra Don Marco a capo di un comitato di famiglie a cosa serve si domandano il collegamento se comunque non si farà il casello di Fenile punti rotatorie e parcheggi entro il 2018 l'Ana si apre il cantiere ecco come cambierà la viabilità nella città di Fano violenta la moglie nella cucina del locale che sta chiudendo rinviato a giudizio l'uomo già allontanato dalla consorte accusato anche di maltrattamenti ha violentato la moglie nella cucina del suo locale quando si stava avvicinando l'orario di chiusura e dentro l'esercizio pubblico era rimasto solo un dipendente per questo reato è stato rinviato a giudizio dalla GUP Lorena Mussoni all'udienza del dibattimento è fissata per il 23 di settembre il prefetto striglia le banche e dice troppo cash troppi contanti troppi soldi incontanti nei bancomat evitate di caricare denaro nel fine settimana siglato il protocollo d'intesa con l'ABI che è l'associazione bancaria italiana dunque con il geocrime si possono determinare le aree a maggior rischio d'assalto e come ormai siamo stati abituati dalle cronache insomma si sa che quando gli istituti di credito caricano molto i bancomat il venerdì sera per tutti quelli che il sabato e la domenica devono fare il prelievo di denaro contante nel bancomat chiaramente lì entrano in azione e quelli che vogliono appunto far saltare solitamente i bancomat e quelli che vogliono prelevare e quindi i malviventi allora sul messaggero Lucia è finita ora penso a me la Cassazione ha reso definitiva tutte le condanne per l'aggressione con l'acido vent'anni dunque a Varani l'ex fidanzato l'annibali presente in aula è una vittoria della vita dedico la sentenza alla procura e ai carabinieri tra l'altro dice Manfredi Palumbo siamo soddisfatti questa è la conferma che le nostre indagini sono state fatte in modo perfetto commenta il procuratore Capodipesaro Manfredi Palumbo anche per lui è finita il caso è finalmente chiuso a centro pagina presentazione a Roma della Coppa Davis che si terrà in estate a metà luglio sui campi della Baratov a Pesaro Coppa Davis tra Italia e Argentina vedete qui il sindaco di Pesaro Matteo Ricci mentre viene intervistato a Roma durante la presentazione la conferenza di presentazione poi costringe la moglie ad un rapporto sessuale il marito sarà processato la donna gli aveva appena comunicato l'intenzione di separarsi e poi stigazione a violenza la vis Pesaro vuole denunciare un telecronista si tratta del telecronista tra l'altro di Fano TV Sergio Catalani il derby con il Fano avrà una coda in tribunale nel mirino anche frasi offensive su Facebook allora qui c'è un aggiornamento da fare lo faccio chiedendovi scusa naturalmente vi rubo soltanto due minuti per aggiornarvi allora succede questo naturalmente io non conoscevo non so quello che fanno i collaboratori sulle proprie pagine Facebook non posso fare il maestro che va a controllare quello che uno dice scrive ognuno è libero di fare ciò che vuole è grande vaccinato quindi non sapevo che nella pagina Facebook che io ho visto soltanto ieri sera di Sergio Catalani c'erano scritte e frasi francamente assolutamente fuori luogo se le avessi viste prima del derby gli avrei detto a Catalani di rimanere a casa e di non presentarsi nemmeno in tribuna stampa perché la telecronica non l'avrebbe certamente fatta questo è un fatto l'altro fatto chiaramente resta l'aggressione che ho già condannato stigmatizzato ma per la quale per me il caso è assolutamente chiuso mentre l'aggiornamento è che Sergio Catalani ieri l'ho chiamato al telefono e gli ho comunicato che il nostro così rapporto di collaborazione si chiude qua e quindi Sergio Catalani non è più il telecronista di Fano TV ok andiamo avanti cambiamo pagina restiamo sempre però sul messaggero eccola qua l'altra pagina Don Marco guida la protesta antitraffico gli abitanti della Tombaccia si sentono minacciati da una morsa di asfalto dopo l'annuncio delle spropri il sacerdote ha la casa nella zona interessata ai lavori ha già presentato un ricorso al Tar e dice Don Marco ora tornerò alla carica fanno discutere gli interventi alla viabilità legati alle opere compensative della terza corsia fioriture di liste invece per il rinnovo delle cariche alla carnevalesca si vota domenica con Pacassoni che proverà a insidiare la leadership di Luciano di Luciano Cecchini sotto ancora da Mondavio Mirko Zenobi corsa solitaria a sindaco puntando ad ampliare l'unione roveresca e poi questa sera l'assemblea sulla frana mentre Talè mobilita la regione per i finanziamenti parliamo della frana che ormai sta lì da diverso tempo allora torniamo per un attimo sulla pagina del Corriere Adriatico per la pagina di Pesaro perché a proposito di Manfredi Palumbo citato poc'anzi per quanto riguarda la soddisfazione su come è andata a finire il processo appunto a Varani individuato l'autore delle minacce a Palumbo voleva realmente questo uomo spaventare il suo interlocutore ma si è sbagliato pensate a comporre il numero telefonico messaggi di solidarietà per il procuratore capo sono arrivati da Ceriscioli dal sindaco Ricci dal segretario del PD Costoli chiaro si cerca adesso di capire ancora di stringere il cerchio attorno all'identità di quest'uomo considerato l'autore di questa telefonata minatoria che è stata ricevuta lunedì mattina dal procuratore capo Manfredi Palumbo al suo numero privato le indagini sono affidate agli agenti della polizia giudiziaria direi che possiamo fermarci qui con la rassegna stampa è tutto grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti